Eccoci di nuovo insieme. Ho deciso di fare questo video i primissimi giorni dell'anno perché voglio augurarti un anno fantastico. Lasciamoci alle spalle un anno pesante da tantissimi punti di vista e cerchiamo di guardare al nuovo anno con più positività. Quindi ti auguro veramente un anno nuovo carico di soddisfazione. Nel video di oggi torniamo a parlare di libri. Come hai potuto vedere in altri video, ogni mese io mi confronto con te su quali sono i tre libri che ho trovato più interessanti nel mese precedente. In questo mese ho deciso di parlarti di un libro riguardo la filosofia stoica ma anche libri che possono aiutarci nella nostra spiritualità. Ma ora ti lascio con la brevissima sigla. Ciao, se non mi conosci io sono Angelo e sono uno psicologo. Da più di dieci anni aiuto le persone a migliorare le proprie relazioni interpersonali, la propria autostima e in generale ad affrontare i problemi quotidiani attraverso piccole strategie psicologiche. A questo scopo ho aperto questo canale youtube. Qui parlo di psicologia, autostima, di crescita personale. Se ti interessano questi argomenti iscriviti subito al canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche così sarai avvissato ad ogni nuovo video. Come ti ho detto in presentazione oggi torniamo a parlare di libri. Voglio presentarti, voglio recensire tre libri che ho letto nel mese di dicembre ma partiamo subito. Il primo libro è Stoicismo, esercizi spirituali per un anno. Questo è il libro migliore per iniziare il nuovo anno. Nel libro l'autore ci presenta la filosofia stoica ma attenzione non ci parla in maniera pesante di questa filosofia ma ci presenta ben 52 esercizi da fare durante l'anno. Ogni settimana ci presenta un pensiero, un approccio, un esercizio stoico per migliorare la qualità della nostra vita. Nel libro si parla nel sottotitolo di esercizi spirituali ma attenzione qui il termine spirituali, spiritualità non è inteso in senso religioso ma come approccio alla crescita dell'individuo. Quindi parla della globalità della persona. Il libro mi è piaciuto tantissimo e non seguendo le sue istruzioni l'ho letto tutto d'un fiato ma ho deciso che nel nuovo anno seguirò le indicazioni settimanali. L'autore infatti come ti ho detto ogni settimana ci presenta un principio stoico e ci presenta anche degli esercizi per attuarlo e per integrare questo principio nella nostra vita. Si parla dell'importanza dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni sulle situazioni. Ci parla il libro anche dell'importanza di distinguere ciò che possiamo controllare da ciò che non possiamo controllare. Si parla anche di come relazionarsi alla politica e in generale alla società. Ripeto il libro è molto interessante perché è presentata la filosofia stoica anche in maniera molto semplice, molto chiara è un linguaggio per niente arzigogorato e ingarbugliato. Un linguaggio semplicissimo ed esercizi veramente veramente utili per integrare questi principi. Ho trovato tantissimi punti di contatto tra la filosofia stoica e la terapia cognitivo-comportamentale. Questo logicamente mi ha spronato sempre più ad approfondire questa filosofia e nei prossimi mesi ho deciso di leggere altri libri sulla filosofia stoica. Se non conosci la terapia cognitivo-comportamentale ti lascio dei link giù in descrizione. Il voto che do a questo libro è un bel otto e mezzo. Il secondo libro che ho letto che vi voglio consigliare è La cura dei dieci minuti. Trasforma la tua vita un mattino alla volta. Libro nel quale l'autore ci spiega e sottolinea l'importanza di uscire dalla routine, dalla vita frenetica e cominciare a prendere una boccata di respiro e di tranquillità. Infatti questo libro è La cura perché vuole contrastare l'atteggiamento frenetico con il quale purtroppo spesso viviamo le nostre giornate. Siamo così presi dai nostri impegni che a volte dimentichiamo di coltivare la nostra interiorità, le nostre emozioni, le nostre sensazioni. L'autore ci dà una cura che dura solamente dieci minuti. Gli esercizi che lui ci propone di fare al mattino sono tratti dalla terapia cognitivo comportamentale, dalla mindfulness, dalla tecnica dell'MDR e da tanti esercizi di consapevolezza. Il libro è veramente uno stimolo a frenare la nostra routine, a rallentarla e a cercare di prendere dei momenti di tranquillità per stare con noi stessi. Questo è un aspetto che anche in altri video ho sottolineato l'importanza di vivere il presente perché purtroppo spesso la routine, la vita frenetica e tante situazioni ci impediscono di cogliere l'essenza del momento, la bellezza della nostra quotidianità. Il libro quindi attraverso una vera e propria cura di dieci minuti vuole portarci a frenare, a tirare anzi un freno a mano nella vita frenetica e a goderci un momento di pausa. Un'obiezione che ho nei confronti di questo libro è la questione dei dieci minuti. Secondo l'autore queste pratiche possono essere attuate in solamente dieci minuti la mattina. Questo mi lascia un po' perplesso perché alcune pratiche necessitano di tempo, di costanza, di allenamento e sinceramente solamente dieci minuti mi sembra un po' pochino come approccio. Cerchiamo di trarre insegnamento dagli esercizi e dalle strategie che l'autore ci presenta per integrarle nella nostra quotidianità e vivere in maniera più consapevole. Libro, ripeto, veramente interessante per chi vuole migliorare la propria consapevolezza e uscire un po' dalla routine frenetica della nostra quotidianità. Il voto che do a questo libro è un bel lotto. Il terzo libro che voglio proporti è Dieci segreti per il successo dell'armonia. L'autore è Wayne Dyer che già ti ho presentato in una precedente recensione perché ho trovato molto utile il suo libro Le vostre zone erronee. Se vuoi vedere la recensione ti lascio il link giù in descrizione. In questo libro invece l'autore cerca di creare un ponte tra la psicologia e la spiritualità. E' un libricino di poco più di cento pagine scritto in un linguaggio molto semplice e fruibile. In più volte nel testo l'autore dice che è stato ispirato a scrivere questo libro da un manuale di spiritualità chiamato A Course in Miracle. E' stato molto famoso negli anni 70-80. Questo è stato un libro di metafisica, di spiritualità molto in voga allora e l'autore ha tratto alcuni spunti per scrivere questo libro. Come ti ho detto il libro è un ponte tra la psicologia e la spiritualità. Qui si fanno cenni anche all'io superiore, si fa cenni allo spirito dell'essere umano. Può entrare in contrasto con alcune credenze religiose delle persone che lo leggono, ma secondo me non vanno ad interferire proprio in maniera profonda con il credo. L'autore usa degli spunti metafisici, degli spunti religiosi, in alcuni punti anche delle frasi della Bibbia, per spronare la persona a fare un'indagine più profonda dentro se stessa. Sprona la persona a cercare la forza interiore per agire un cambiamento positivo. Se vai alla ricerca di un testo che coniughi psicologia e spiritualità, questo fa per te. Ma mi raccomando, alcuni aspetti religiosi, spirituali, è caso di prenderle con le pinze se non rientrano nel tuo credo. L'autore che cosa fa? Ci presenta quelli che secondo lui sono dieci segreti per vivere una vita felice, per vivere una vita appagante. In tutto il libro vi è la volontà dell'autore di spingere il lettore ad avere una visione più ampia, più spirituale, più completa della vita e non fermarsi alla semplice materialità. Rispetto al suo best seller, le vostre zone erronee, questo è intriso molto più di spiritualità e lo consiglio alle persone che vanno alla ricerca di quello scopo superiore, vanno alla ricerca del significato della vita. Il voto che do a questo libro è un 7. Ti ricordo come sempre che se vuoi consigliarmi dei libri oppure hai letto questi libri e vuoi dirmi la tua opinione puoi scrivere giù nei commenti. Da qualche mese è attivo anche il mio canale telegram, lì ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale. Se vuoi entrare a far parte della mia community trovi il link giù in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.